Allora io stasera rappresento l'associazione radicale certi diritti, ma sull'associazione dirò veramente pochissimo, anche perché abbiamo allestito un tavolino qua, quindi chi vuole dare un'occhiata c'è anche del materiale dell'Arcichè, c'è del materiale nostro, un divulgativo, quindi è a vostra disposizione poi dopo. L'associazione radicale certi diritti è un'associazione che è un soggetto costituente di un partito, di un partito politico che è il partito radicale non violento, transnazionale e traspartito. Noi la chiamiamo la galassia, è una cosa abbastanza complicata, quindi non mi tederò, ma sono associazioni nazionali che costituiscono questo partito e che queste associazioni nazionali si occupano di difese dei diritti umani prevalentemente, c'è l'associazione Nessuno Tocchigaino che si occupa della pena di morte, c'è Longefagge senza giustizia, forse martedì all'ONU si otterrà finalmente il voto definitivo per la messa a bando di quella barbaria che sono le mutilazioni genitali femminili. Sei anni fa è nata l'associazione Certi Diritti, nasce l'associazione Certi Diritti in un momento di compromesso a ribasso, si parlava dei dico all'epoca o qualcosa del genere, insomma se fate conto che i diritti in Italia sono come un carciofo, togli una fogliolina oggi, togli una fogliolina domani, cioè sei anni fa si era arrivato al punto che le foglioline non c'erano più, quindi sapete cosa c'era rimasto. Allora Sergio Arvasio insieme ad un gruppo di persone che è uno dei fondatori dell'associazione Certi Diritti, proprio in un riflesso, dice no qui la situazione va a ribasso invece abbiamo la necessità di mescolare le carte in tavola, per cui di rilanciare e allora uscì fuori il manifesto, il manifesto che per chiedere il matrimonio è ugualitario, quindi dare la possibilità anche alle persone omosessuali di accedere all'istituto che è il matrimonio civile. Poi l'associazione si è strutturata, adesso ha 700 iscritti più o meno distribuiti sul territorio nazionale e ci si occupa anche di altre cose, l'associazione chiede una profonda riforma del diritto di famiglia, così come ci si occupa anche di altre cose tipo i diritti della prostitute. Io adesso farò un po' un piccolo esempio, mi devo aiutare un po' con la lettura, perché le cose che mi hanno preparato da dire, vi tenderò soltanto per 10-12 minuti, però è un po' articolato, quindi per non rischiare di perdermi nei passaggi mi aiuterò un po' con la lettura e la prima cosa che vi dico è che tutti hanno diritto alla felicità. Io mi ero preparato a questo intervento che voleva trattare un po' questo concetto e che ancora oggi fa fatica a emergere, c'è appunto il diritto alla felicità che noi tutti abbiamo. Poi in questi ultimi giorni riflettendo ho capito che forse sarebbe meglio portare anche un contributo alla discussione che stiamo aprendo qui, un contributo fondato anche su esperienze personali, vissute, piuttosto che solo sul filo della buona teoria, posto che la buona teoria non ha nessuna comprendicazione, nessun aspetto negativo. Cercando di legare l'uno all'altro, voglio dirvi che giornate come queste in cui ragioniamo sull'omofobia, termine che a me non piace perché non descriva al meglio di cosa si tratta, in queste giornate in cui ricordiamo le vittime dell'omofobia, per poi trovare strade nuove, via da percorrere, per migliorare un po' questa società che viviamo. Questi giorni, lo dico, per un sopravvissuto come me, sono giorni duri, anche complicati da portare avanti. E spiegherò fra poco chi è, un sopravvissuto, da raggiungere un segretario generale regionale. Salutevamo, ti ringrazio. E quindi dicevo che giorni come questi, per un sopravvissuto come me, sono giorni duri un po' complicati da portare avanti e vorrei spiegarvi, fra poco lo farò fra breve, chi è e che cos'è un sopravvissuto. Dicevo, il diritto alla felicità è un concetto ampio, è centrato sulla persona, sulle sue mille spaccettature, fa fatica a emergere in questo contesto sociale, soprattutto adesso in questo contesto di crisi economica, per dirne una, la crisi economica adesso è ingurgitato tutto, ti impone ad accettare qualsiasi lavoro, a qualsiasi condizione, quando si parla di diritti, di discriminazione, figuriamoci poi il diritto alla felicità, tutto passa in secondo piano, assolutamente tutto, tutto è riportato alla crisi economica e questo è un errore, è un errore perché i diritti della persona vanno tutelati sempre, sia quando c'è crisi sia quando non c'è, non esiste nemmeno una buona ragione per soprassedere o per dire che adesso ci sono cose più importanti delle altre, tutto è importante e questo ristagnare un po' delle cose non fa altro che allontanarci da costruire quella società inclusiva dove ognuno può e deve avere l'opportunità per essere felici. Non parliamo poi del concetto di vivere la propria sessualità senza che nessuno debba giudicarti, lo dicono al bene o nel male, oppure insultarti, alzarti le mani come spesso accade, perché in momenti difficili come questi il muro più alto purtroppo è eretto proprio dalle istituzioni e allora sembra che parlare dei diritti della comunità LGBT sia sempre fuori luogo e anche questa è una forma sottile di discriminazione. Il danno sociale che tutto questo comporta è enorme. Ora quindi vorrei raccontarvi un'esperienza personale, la prima volta che ne parlo in pubblico e non credo sia una scelta sbagliata perché sono convinto che possa essere utile a dare un po' il significato alle cose, alle cose che ti accadono, poi quando sono brutte le cose che ti accadono magari si può trovare anche qualcosa di buono perché possono tornare utili per gli altri. Era il 1992 e io ero un giovanissimo imprenditore di 22 anni e viveva a Lugano, in Svizzera. Il mio compagno ne aveva appena 18 e stavamo insieme da circa un anno. Una notte io rientravo da un viaggio di lavoro in Ungheria e lui ha pensato di togliersi la vita. Non ha lasciato il classico biglietto. Io l'ho stesso ringraziato per questo perché in una circostanza del genere una parola fuori posta che potesse essere interpretata male avrebbe potuto ingenerare un senso di colpa ancora maggiore e in circostanze simili penso che ci sia il rischio che una persona al colpo e dopo non riesca a liberarsi mai. La conseguenza è stata che gli anni successivi sono stati veramente difficili. Sì perché è complicato poi andare avanti quando si resta soli così, avere a che fare con le essenze di colpa, depressione, cure. Perché che non riescono poi ad avere risposte precise? Questo poi forse è un dramma maggiore. Gianni io non lo so perché si è suicidato o meglio non me la sento di interpretare un gesto che io personalmente ho fatto molta fatica ad accettare. Però vedete è un gesto col quale prima bisogna diciamo fare i conti e poi però bisogna farci pure la pace altrimenti non si riesce ad andare avanti. E ho dovuto accettare questa scelta pur non condividendola ma con rispetto. La cosa forse è stata in quel padre che quando era gentile lo chiamava ricchione di merda. Vi scuso di queste parole ma le parole hanno un peso e vanno considerate anche quando sono dure e scostumate come queste. Sapete perché? Perché altrimenti non si capiscono. Se queste parole si nascondono perdono il significato, hanno un significato profondo che ledono, che segnano. E alla fine si pensa solo che sono parole ma non è vero, non è così, non sono solo parole. Forse Gianni si è ucciso perché non potevamo raccontare a nessuno una gioia che se sei nelle condizioni di non poterle raccontare a nessuno, pensateci, è come se fosse sempre a metà ma è piena. All'epoca però non credo che le cose siano cambiate negli ultimi vent'anni a queste parti nella comunità italiana all'estero, certe espressioni di vita, di sessualità, non lo so, sempre un po' che intacca per loro quella fama macista dell'italiano, tanto virile, tanto l'hater lover. Insomma, ad avere una gentilezza all'epoca in quella comunità ti beccavi come minimo del depravato. Quello che accade con le parole in molte famiglie, a scuola, sul posto di lavoro, non sono parole innocenti, perché sono innumerevoli i casi in cui ragazze e ragazze, donne e uomini, la maggior parte delle volte non dichiarate, cioè che non hanno fatto coming out, che non hanno dichiarato il proprio orientamento sessuale, quello che accade in questi posti sono cose inenarrabili, perché sentirsi demolire ogni giorno, anno dopo anno, sentirsi dire di non essere adatti, malati, sbagliati, doversi nascondere, celare i propri sentimenti, mette veramente a dura prova se stessi, mette a dura prova l'autostima, l'immagine di sé, mette a dura prova tutto. Questo spessissimo accade proprio nei luoghi dove poi una persona dovrebbe sentirsi più amata, protetta, no? E altrettanto spesso accade anche dopo essersi dichiarati, dopo aver fatto conoscere il proprio orientamento sessuale. Io penso che se esiste un'ingiustizia, se esiste un'ingiustizia che merita di essere combattuta, è proprio quando la società si dimostra ostile con determinate persone, e questa è una di queste circostanze. Vedete? Quello che ho capito è che a differenza della stragrande maggioranza delle persone che riescono a costruirci una corazza attorno per sopportare i colpi che ti arrivano, alcuni questa barriera non riescono ad alzarlo, non ce la fanno. Vi chiedo sempre che razza di società è questa se resta nell'incapacità di progredire per difendere le persone più deboli, quelli che non ce la fanno. Mi chiedo che senso diamo alla società se non siamo disposti a fare di tutto per difendere e amare queste persone, che sono fragili, ed è vero, sono fragili, allo stesso tempo sono belli come cristalli. Che senso vogliamo dare alla nostra umanità e quindi ecco il senso delle cose, il senso di questo incontro che sta parlando alle istituzioni, che poi sono fatte di persone, di persone con responsabilità precise ed è per questo che chiedo anch'io a gran voce che la provincia e i comuni si facciano carico di aprire i dipartimenti contro le discriminazioni, così come proponiamo insieme alla CGL. I dipartimenti contro tutte le discriminazioni, perché è un errore pensare che ognuno pianga la propria e per proprio conto. Le discriminazioni sono discriminazioni sempre e comunque per orientamento sessuale, per nazionalità, per razza, per colore della pelle, per età, per handicap e per tutte le altre cose. Io ringrazio la CGL e faccio il nome per tutti, quello del segretario generale Giuseppe Valentino. Grazie a tutti. Se in tutti hai voluto questo incontro e insieme abbiamo voluto che non fosse solo testimonianza o peggio di sterile protesta, ma di proposta, perché questo è un concetto diverso. E allora l'idea di dipartimenti negli enti locali contro ogni discriminazione che possano relazionarsi con enti come Lunar, per esempio, l'idea di consegnare al prossimo Presidente della Camera una petizione, come diceva prima Bruno, una petizione per rimettere di nuovo all'attenzione del Parlamento la discussione e la promozione di una legge contro l'omotrasfobia che è stata vergognosamente bocciata tre volte. L'idea di avviare, spiegare e fare formazione nelle scuole. Questo incontro che serve anche per conoscerci e per avviare un percorso comune proiettato verso nuove e sempre più frequenti rivendicazioni del diritto al rispetto di tutte e di tutti, abolendo ogni discriminazione. Ecco, questo è la prima volta che accade qui in Calabria. Qualcuno dirà è presto, è tardi, qualcuno esclamerà finalmente. Adesso non ha più importanza. Quello che conta è che sia accaduto e che possa essere l'inizio di un percorso fatto di cose concrete per contrastare le discriminazioni e il razzismo omofobo che alberga anche qui nella nostra terra e che non manca di manifestarsi anche con atti di violenza fisica come ricordano le cronache recenti, Claudio Toscano che è qua in sala. Ora voglio dimostrarvi come da vent'anni a questa parte non è cambiato nulla. Certo oggi è più facile parlare della comunità LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. Non dobbiamo avere paura né imbarazza a pronunciare queste parole. Lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. E non bisogna biascicare quando si pronuncia la parola omosessualità come se fosse qualcosa di imbarazzante, perché non lo è. Non bisogna biascicare. Oggi certo è più facile fare i gay pride, manifestare, ma da vent'anni a questa parte noi non riusciamo a proteggere le persone più fragili in questa società. Questa è la verità. Questo è il dato importante e noi tutti siamo chiamati a lavorare su questo. Non eravamo capaci ieri, non siamo capaci oggi. Vedete, quando una persona se ne va, i danni che sono prodotti non sono solo rappresentati dalle vite perdute. Purtroppo tutto cambia profondamente per i sopravvissuti, quelli come me. Che cosa cambia? Cioè, tutti subiscono un danno enorme. Ma che cosa cambia per queste persone? Chi sono poi anche queste persone? Sono genitori, fratelli, sorelle, amici? Poi si va avanti lo stesso. Forse ci si rifà una vita. Alla fine si riesce perfino a rifarsi una vita felice. Però nessuno può venire a dire che è la stessa cosa, perché non è così. Io ho conosciuto una madre che ha impiegato dieci anni per raggiungere quel figlio al quale era sopravvissuto. Parliamo di circostanze diverse, ma ha impiegato dieci anni lasciandosi andare giorno per giorno da reclusa in casa. Questa manifestazione è nata per ricordare Andrea, il nome non era stato ancora citato, lo faccio io. Il quindicenne che a Roma si è tolto la vita poche settimane fa. Un dettaglio. Andrea era calabrese, originario di San Giovanni in Fiore, il nostro conterraneo. Andrea si è ucciso probabilmente perché è vittima di bullismo sfondo omofobo. Ci sono state polemiche, precisazioni, ma non ha nessuna importanza se è Andrea e raghe oppure no. Purtroppo la sostanza non cambia. È rimasto vittima delle discriminazioni chiamate l'omofobia, ma a torto ragione Andrea è rimasto vittima di un sentimento che l'omofobia non lo descriva a Piero. Io annovero la radice di questo termine al razzismo. Perché quando Rosa Parks a Montgomery nel 1955 era stanca di non potersi sedere sull'autobus nei posti liberi riservati ai bianchi e si fece arrestare piuttosto che alzarsi, gridando al mondo l'insensatezza della discriminazione basata sul colore della pelle, ha gridato al mondo il diritto umano e il diritto alla dignità e all'uguaglianza per tutti. Il diritto al rispetto che è cosa diversa dalla tolleranza, lo dicevamo prima. E quel grid era anche per gli omosessuali, anche per tutta quella moltitudine di persone discriminate in altri mille modi diversi. Io non capisco perché se è razzista dire porco negro non deve esserlo anche quando si discriminano le persone per l'orientamento sessuale. Non capisco perché è disdicevole prendersela con gli ebrei se si parla a bambere in un bar, ma questo perché non accade quando si parla di omosessualità e spesso poi è anche accompagnato a corrisatine ammicamente. Questa è una cosa che io non capisco. In mia conclusione vorrei dimostrarvi quanta strada abbiamo ancora da percorrere per riconoscere la dignità umana a tutti e a tutte noi. Oggi ricordiamo Andrea, vittima del razzismo omofoto. Ogni anno ci sono una moltitudine di casi come questi in Italia e nel mondo. Qualcuno salta più agli onori della cronaca, altri di meno. Ma siamo qui a parlare sempre delle stesse cose, senza che la società da vent'anni a questa parte sia stata capace di fare passi significativi in avanti. Ho ricordato Gianni, vi ringrazio per la vostra pazienza. Ma per terminare vorrei consigliarvi un libro che a me è molto caro. È un libro che ha raggiunto i vent'anni d'età, per il caso, di Pier Giorgio Patalini. Si intitola Ragazzi che amano ragazzi. Io vi lascio la curiosità di andare a leggere le storie, le testimonianze di questi adolescenti e ragazzi che sono in tutto e per tutto lo specchio degli adolescenti e dei ragazzi di oggi. L'unica differenza è che in quegli anni per trovarsi si usavano annunci, lettere, fermoposta. Oggi è tutto più semplice, c'è Facebook, comunque grazie Facebook. In questo libro è stata pubblicata la riedizione proprio quest'anno e il contenuto è identico tranne che nella prefazione dove l'autore lamenta proprio che in questo ventennio non è cambiato nulla e si rammarica. Questo libro termina con una lettera ed è questa la dimostrazione di questa società immobile e ostile. Vi impegno solo altri due minuti perché vorrei leggerla. Si tratta di una lettera che il 3 giugno 1989 giunza la sede nazionale dell'Arcigliei scritta su un foglio protocollo a mano e si vede che nel linguaggio è scritta da un ragazzo giovanissimo, un ragazzo che va a scuola. Verona 3 giugno 1989. Questo ragazzo all'Arcigliei scrive L'altro giorno mentre stavo con la mia compagnia un ragazzo che viene da poco lì con noi ha detto che mentre stava ascoltando la radio dei comunisti ha sentito una trasmissione di froci i quali parlavano di un ragazzo che si è ucciso perché lo avevano scoperto a scuola che ci stava con un altro. Io quando ho sentito quello che diceva questo ragazzo mi è venuto come un colpo al cuore perché quel ragazzo che è morto si chiamava Luca. Quella volta ci hanno trovato a fare insieme nella doccia della palestra. Io però ho dovuto dire che era stato lui. Se noi compagni di scuola andavano a dirlo ai prof e mi sputtanavano anche con la mia famiglia così mio padre mi portava dallo psicologo e mi metteva in collegio come ho fatto il papà di Luca prima che si ammazzasse. Volevo dirvi che anche a me come a Luca mi piacciono i ragazzi invece che le ragazze e quella volta in palestra ero contento di fare con Luca perché lui era un paninaro molto bello biondo e con due grandi occhi neri. Ci siamo capiti subito perché lui guardava sempre me e io lui. Poi una volta durante la ricreazione io sono andato nei bagni della palestra dove non ci va mai nessuno fuori dall'orario di lezione e l'ho aspettato là fino alla fine della ricreazione. Poi lui è arrivato. Quando non lo sono visto davanti mi batteva il cuore per l'emozione e mi tramavano le gambe. Poi ci siamo baciati ed è stato bellissimo. Poi ci siamo rivisti ancora altre volte e una anche a casa mia. Quanti mie sono andati via. Fino a quando non ci hanno scoperto in palestra. Dopo quella volta non l'ho più visto perché suo padre lo ha ritirato da scuola e siccome lui era di un paese della bassa non mi ricordo bene quale non sono mai andato a trovarlo. Quando ho saputo che si è ucciso ho pensato di farlo anche io ma dopo non ci sono riuscito. Però sono stato male e non dormivo la notte perché Luca è morto, se è morto è anche per colpa mia. Un'altra volta lo rilevo al parroco ma non l'ho fatto perché lui una volta in chiesa ha parlato molto male della gente come noi e tutti gli battevano le mani e alcuni uomini si alzavano in piedi per batteri. E io con questa scena stavo ancora peggio. Allora ho preferito dirle a voi queste cose perché dicono in giro che i ragazzi del vostro partito difendono la gente come me e voi. Io so chi siete voi o per meglio dire so dove state e vi ho anche visti. So dove state perché state proprio davanti alla mia scuola. Me l'ha detto il mio compagno di scuola quando stavamo uscendo diceva che in quel palazzo ci sono i froci e le resbiche. Poi una volta sono rimasto per più di mezz'ora a guardarvi quando davate da bere alla gente in piazza Bra quando c'è stata una corsa questa primavera e mi sono anche avvicinato e uno di voi molto gentile mi ha dato da bere e mi ha guardato con un sorriso. Sono stato così contento e ho ancora il bicchierino di carta in camera mia. Prima o poi spero di venirvi a trovare che ho visto il vostro indirizzo davanti alla mia scuola e me l'aveva detto quel mio compagno che aveva visto un adesivo giallo. Se usate questa lettera per favore non parlate del nome della mia scuola e del mio. Io spero che Luca dall'alto dei cieli mi perdoni e che sappia che lo penso sempre e che gli voglio bene e se sapesse dove la sua tomba andrei a mettergli dei fiori. Ecco in questa lettera e sono passati vent'anni c'è la storia di un altro sopravvissuto perché quello che poi dopo alla fine accade e sono pronto a scommettere che anche per questo ragazzo qui che ha scritto questa lettera vent'anni fa, giornate insomma un po' come queste sono dure da sopportare perché certi dolori possono passare forse 20, 30, anche 50 anni, però ci sono certi momenti che è come se si fossero vissuti ieri. Grazie. 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 Grazie.